State ammirando un giovane, un pezzo unico, esclusivo, irripetibile, con le sue caratteristiche, le sue passioni, la sua storia. Una limited edition che spesso non ha passerella. Milioni di pezzi unici abbandonati, non ascoltati, non accompagnati. I salesiani nel mondo li aiutano a coltivare i sogni, a costruire il futuro, a trovare la passerella per una vita limited edition. Perché i giovani non sono tutti uguali, sono tutti unici.